In casa Vispesaro, dopo un mese di preparazione, si inizia a sentire l'odore del debutto in campionato fissato per il prossimo 4 settembre, anche se per l'ufficialità del calendario si dovrà aspettare fino al 26 di agosto. Un mese di allenamenti e duro lavoro in cui Mr. Sassarini sta provando a trasferire i suoi concetti di gioco alla sua nuova squadra. Abbiamo, secondo me, costruito fondamenta importanti. È chiaro che abbiamo ancora il tetto scoperto, come normale che sia, che quindi possa più averci dentro, ma nel percorso lo andremo a chiudere e sono soddisfatto. Siamo in un momento chiaramente molto basso perché ci manca brillantezza, ci manca lucidità, ci manca collegamenti, siamo ancora lunghi e larghi, ma se si vuole costruire qualcosa di duraturo, queste sono le fondamenta necessarie da costruire. Dopo le amichevoli concluse con due sconfitte contro Sassuolo e Gubbio, domenica 28 agosto alle 17, la Visse farà visita allo stadio Adriatico di Pescara per una delle ultime amichevoli in programma in vista della prima di campionato. Le prime amichevoli magari eravamo più brillanti e quindi sono venuti anche più gol, più situazioni. Ora siamo, ribadisco, un pochino più compassati e quindi anche meno brillanti e quindi attacchiamo con meno giocatori di quanto dovremmo attaccare. Credo che sia, senza il credo, assolutamente normale questa situazione. A causa dell'esclusione dal prossimo campionato di Lega Pro e dell'imminente ricorso presentato dalle dirette interessate Campobasso e Teramo, la prima giornata di Serie C è stata slittata di sette giorni. Un cambio di programma che permetterà a Mister Sassarini di lavorare ancora di più con i suoi giocatori. Sì, una settimana ti dà tempo e modo di migliorare e soprattutto di recuperare gli infortunati perché non dimentichiamoci che in tutte le partite abbiamo giocato con 3-4 giocatori in meno. Vedi un offensivo, vedi Di Paola, vedi Sanogo e vedi Auccelli che per noi sono importanti, ma non tanto nella partita amichevole che non conta quanto nella crescita globale dell'idea. Crescita è anche la parola chiave del percorso che hanno intrapreso gli undervis Pesaro, che in questa primissima parte della nuova stagione stanno dando buone impressioni all'allenatore. Sappiamo perfettamente qual è l'intendimento della società e che quindi secondo me abbiamo dei giovani di ottimo valore. È chiaro che ci sono dei giocatori molto più avanti e altri molto più indietro, però secondo me i giovani su cui vogliamo puntare sono molto avanti e sono di qualità. Entrate e uscite dal mercato. Mister Sassarini ha fatto anche chiarezza su ciò che manca. Io credo che la Vis attualmente manca dei giocatori che non sono a posto e di conseguenza poi i giocatori che partiranno, la Vis acquisterà ad ogni giocatore che manca, ne arriverà uno. Questo è quello che manca alla Vis, ma la Vis adesso è completa. Quello che manca è se dovesse partire qualche giocatore, ne arriverà di conseguenza altri.